Grazie a tutti. Uno scuola bus carico di scolari, birichini e cacciaroni come tutti gli scolari del mondo, ma non esattamente di primo pelo. Età media 75 anni, ma certamente con le idee molto chiare. Stanno andando ad iscriversi a scuola perché sanno che è l'unico modo per difenderla dalla morte sicura decisa dal decreto Gelmini, che vuol cancellare tutte le scuole che hanno meno di 100 alunni, anche quella di Acqua Formosa, che è Paeser Brescia, dunque tutelato dalla legge e che considera la sua piccola scuola il fiore all'occhiello di una comunità prosciugata da emigrazione ed emarginazione. Caparelli Maria Giuseppina Sta andando a scuola? Sì signora Ma da bimba è andata a scuola quando era piccina? Ci andava? Nonno Quindi lei non sa leggere né scrivere? Nonno Imparerà adesso? Va bene C'è una buona volontà di imparare Noi eravamo una murra di fratelli e sorelle e dovevamo lavorare tutti da piccoli e quindi a scuola non abbiamo potuto andare Molti di questi allievi in posta a Gionatelli varcano la soglia di una scuola per la prima volta nella loro vita Che effetto le fa a sederci su questi banchi? Sono molto amizionata Lo fa perché i bambini di Acqua Formosa abbiano una scuola? Certo Se manca la scuola manca tutto Allora sindaco sembrava una provocazione, una follia invece gli anziani di Acqua Formosa davvero si iscrivono a scuola? Vogliono davvero dare una mano alla loro scuola? È una bella battaglia che sta diventando realtà nel senso che è una realtà viva e loro stanno combattendo questa battaglia civile insieme al sindaco per la sopravvivenza del paese perché un paese senza la gioia dei bimbi, l'allegria, la spensieratezza dei bimbi è un paese destinato a morire Insomma, Acqua Formosa sarà un paese invecchiato, l'età media qui è tra le più alte della Calabria ma non vuole essere un paese per vecchi Mi chiamo Cortese Pasqualina e sono la più bella vetta di Acqua Formosa Anche in Calabria Anche in Calabria